Credo che anche il clima oggi non aiutava molto a giocare bene, fortunatamente abbiamo sbloccato la partita subito all'inizio perché poi dopo come avete visto non era facile giocare perché il vento ha creato tanti problemi. Meno male che abbiamo sbloccato la partita all'inizio perché sicuramente poi la fatica un pochino l'avremmo risentita visto che stiamo giocando ogni tre giorni e quindi va bene così. Sì, però continuiamo a elogiare la squadra, il mister e tutti perché stanno dimostrando continuamente questa è una squadra che non sta regalando nulla a nessuno, ogni tanto inciampiamo ma quando andiamo in campo con umiltà e con concretezza siamo belli neanche da vedere credo. C'è una cosa che non mi piace proprio quando si giocava, anche quando giocavo io è il vento perché se piove il vento falsifica molto le partite, io mi ricordo anche qui con il Fiorenzuola che in quel caso lì l'abbiamo persa, fu un colpo di vento che però il vento mi dà molto fastidio sinceramente. Ci sono dei giocatori che gli anni scorsi hanno giocato pochissimo e quest'anno stanno tirando, oggi ho dovuto far firmare qua, me l'ha quasi chiesto, ci abbiamo 4-5 tipo Nannini, Bini, lo stesso Jukic e Keki che purtroppo hanno tirato fino adesso la carretta e dovrebbero recuperare un pochino, ora vediamo, domenica è l'ultima di questo lungo tutorial forse e poi si comincerà a giocare settimanalmente. No, domenica è l'ultima.